Le migrazioni verso l'Europa, le situazioni di conflitto nel Mediterraneo e il contributo di Malta nell'Unione Europea sono stati alcuni dei temi del colloquio di Papa Francesco con il Presidente di Malta, Signora Marie Louise Coleiro Preca. Nel corso del colloquio, riferisce il comunicato della Sala Stampa Vaticana, il Papa e il Presidente si sono soffermati sulle buone relazioni tra la Santa Sede e Malta, rilevando il significativo apporto della Chiesa Cattolica in campo educativo e assistenziale, specialmente a favore dei poveri. Ci si è poi riferiti al ruolo dei valori cristiani nell'edificazione della società maltese e al rafforzamento dell'istituto familiare. Infine si è parlato del contributo di Malta in seno all'Unione Europea, come pure di alcune questioni di carattere internazionale, quali le situazioni di conflitto nella regione del Mediterraneo, per le quali si è auspicata una pronta soluzione attraverso il dialogo, nonché il fenomeno delle migrazioni verso l'Europa, che vede impegnati la Chiesa e il governo maltese. Grazie 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 a tutti.